I segreti di stile del compagno di Irina Shayk È salito alla ribalta grazie al ruolo interpretato nel film Una notte da Leoni in cui ha interpretato Phil Vennec, stregando il pubblico femminile. Da allora si sono susseguiti numerosi successi, tra cui anche una candidatura allOscar come miglior attore protagonista nel film Il lato positivo. Bradley coopera talento certo, ma ha anche un fascino straordinario e uneleganza da uomo daltri tempi. La prima cosa che colpisce dellattore è il suo sguardo intenso, arricchito dal colore dei suoi occhi. Non è un caso infatti che la sua ex fosse la modella britannica su Kivaterouse, mentre ora sia il compagno di una delle donne più sensuali del momento, Irina Shayk. . Anche ora che è diventato padre della piccola Lea De Seine, Cooper non ha perso leleganza e lo charme che lo contraddistinguono. . Lattore non sbaglia mai un look e negli anni ha raffinato sempre di più i suoi outfit, sia sul Redo Carpet, sia nella vita privata. . Tutti i segreti del look della star. Bradley Cooper non è perfetto, ma sono le sue imperfezioni a renderlo ancora più affascinante. Il suo talento consiste nel rendere unico ogni tipo di look, esprimendo appieno la sua personalità sicura e forte. . Un piccolo segreto risiede anche nella vestibilità dei suoi abiti, pur non avendo un fisico perfettamente scolpito, sceglie sempre abiti aderenti che valorizzino al massimo la sua silhouette, così che la giacca renda il petto più ampio e le spalle ben definite. . Lattore inoltre sceglie giacche e cappotti di classe, rigorosamente lunghi fino al ginocchio e con il doppio petto. . Cooper ama anche il look casual e trasandato, un capo che non manca mai nelle sue uscite e la classica camicia a quadri portata con le maniche arrotolate e leggermente sbottonata. . Anche i suoi look da red carpet sono sempre impeccabili, lo smoking nero con il papillon è un vero most, che rende perfettamente la personalità dellattore. . L'hairstile è una delle cose più apprezzata di Cooper, i suoi capelli sono cambiati nel corso degli anni, ma sono sempre folti e molto naturali. . . Lattore preferisce portarli con un look spettinato, ma si è mostrato in pubblico anche con i capelli perfettamente pettinati allindietro, davvero gentleman, oppure con un taglio più corto ai lati e più lungo nella parte centrale, come se fosse una crista. . Infine, l'ultimo tocco di classe che non può mancare sono gli occhiali in stile aviatore. . Bradley Cooper, il papà più hot di Hollywood. Anche ora che è diventato padre, non ha perso il suo grande fascino da divo di Hollywood. . Nelle scorse settimane è stato immortalato mentre andava a una festa a casa di un amico insieme alla moglie Irina Sheik, con un look molto sportivo e casual, ma anche in quel caso, manteneva intatto il suo charme. . . Era considerato lo scapolo d'oro di Hollywood e nessuno si sarebbe mai immaginato che in poco tempo sarebbe arrivato ad avere una famiglia solida, ma una cosa è certa, Bradley Cooper non smette mai di stupire i suoi tantissimi fan. . . . .